Basta sacrificare l'ambiente del parco di Portofino. Legambiente, l'IPU e WWF Italia esprimono soddisfazione per l'accoglimento del ricorso presentato contro il decreto del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica che definiva la perimetrazione provvisoria e le misure di salvaguardia nel parco di Portofino, riducendone i confini rispetto a quanto precedentemente stabilito. Legambiente, l'IPU e WWF Italia esprimono viva soddisfazione per l'accoglimento da parte del TAR del ricorso presentato contro il decreto del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica che definiva la perimetrazione provvisoria e le misure di salvaguardia nel parco di Portofino, riducendone i confini rispetto a quanto precedentemente stabilito. Dalla sentenza, dichiarano le associazioni che nel giudizio sono state difese dall'avvocato Riccardo Leltora, emerge chiaramente la gravità dell'azione del Ministero il quale ha accolto le richieste del Presidente di Regione Liguria determinando la riduzione dei confini dell'area protetta da 5.363 ettari a circa 1.500 ettari. Questa enorme riduzione dei confini dell'area protetta, fatta coincidere per lo più con un territorio già protetto a livello regionale, è stata disposta dal Ministero in violazione delle valutazioni scientifiche e delle norme tecniche solo per assecondare le richieste di alcuni centri di interesse come il mondo venatorio, che si oppongono ad ogni forma di protezione della natura, considerata la stregua di un parco giochi privato. Nel disporre la riperimetrazione del parco, il Ministero, denunciano ancora le associazioni, ha in un solo colpo smentito se stesso, avendo annullato due precedenti decreti e si è discostato, senza alcuna motivazione, dalle conclusioni di natura tecnico-scientifica esposte da Ispra, che, lo si rammenta, fa capo proprio al Ministero dell'Ambiente. Questa sentenza segna una fondamentale tappa in un'articolata vicenda non solo politico-amministrativa, ma anche giudiziaria, che ha visto già pronunciarsi il tal del Lazio e il Consiglio di Stato. In questo ite, le associazioni, ancora prima di ricorrere ai giudici, avevano più volte richiamato il Ministero alla propria responsabilità, segnalando queste macroscopiche anomalie. Il presidente di Regioni Liguria, Giovanni Totti, agli arresti domiciliari dallo scorso 7 maggio, sarà interrogato nella giornata di domani. Totti è accusato di corruzione per l'esercizio della funzione e atti contrari ai doveri d'ufficio. Secondo la procura di Genova, avrebbe ricevuto tangenti in cambio di favori, in particolare per quanto riguarda la concessione di spazi portuali all'azienda di Aldo Spinelli, ex presidente del Genoa e del Livorno. In occasione dell'interrogatorio di garanzia davanti al GIP Paola Fagioni, il governatore Ligure si era avvalso della facoltà di non rispondere. Invece domani, ad interrogare Totti, saranno il sostituto procuratore Luca Monteverde ed il collega Federico Manotti. A seguito di controlli di persone sottoposte alla detenzione domiciliare, i carabinieri di Genova e quelli di Santa Margherita Ligure hanno eseguito ordini di carcerazione nei confronti di tre italiani, di età compresa tra i 30 e i 60 anni d'età, sorpresi ripetutamente a commettere violazioni alle prescrizioni cui sono sottoposti. Tutti e tre sono stati portati nel carcere di Marassi a Genova. 11 comuni della Liguria si contendono quest'anno il premio Piccolo Comune Amico, progetto realizzato da Codacons in collaborazione con Coldiretti, sostenuto da diversi enti e associazioni. Si tratta di una iniziativa aggiunta alla sua quarta edizione che prevede anche diversi premi speciali e che premia le eccellenze italiane nelle categorie agroalimentare, artigianato, innovazione sociale e culturale, arte e storia. La premiazione si svolgerà il prossimo 10 luglio a Roma. Si può votare il proprio comune preferito attraverso il sito internet di Codacons e in gara ci sono anche Castiglione Chiavarese, Moneglia e Santo Stefano Davento. Sono state condotte delle prove di tiro per valutare la stabilità di alcuni alberi importanti a seste rilevante, il pino d'Aleppo sul lungomare e la sughera di San Nicolò. Le verifiche sono state eseguite da uno studio di Firenze che ha analizzato le condizioni di stabilità attraverso un'analisi strumentale e prove di trazione controllata, simulando la sollecitazione del vento sugli alberi. Questa procedura permette di valutare lo stato dell'apparato radicale e di identificare eventuali danni alle radici, evidenziando possibili situazioni di pericolo per la stabilità degli alberi in condizioni di forte vento. I risultati saranno presto riassunti in una redazione o report delle analisi, fa sapere l'amministrazione comunale di Sestre Levante. Ritorna anche quest'anno il premio nazionale Città di Chiavere, miglior giornalino per ragazzi, promosso dall'Associazione Ligure e Letteratura Giovanile in collaborazione con Palazzo Bianco. L'iniziativa, giunta alla sua quindicesima edizione, è rivolta ai giornalini destinati ai bambini sino ai 6 anni. Le case editrici per partecipare hanno tempo fino al 30 giugno prossimo. La cerimonia di premiazione si svolgerà il 22 novembre all'Auditorium San Francesco di Chiavari. Il premio è nato nel 2005 da un'idea del professore Angelo Nobile. La letteratura giovanile ha un ruolo fondamentale nell'educazione e nella formazione dei ragazzi che meritano proposte divertenti ma soprattutto di qualità, ha affermato l'assessore comunale alla cultura Silvia Stanig. Sabato prossimo a Camogli si svolgerà l'evento Vivere il mare organizzato dal comune del Golfo Paradiso. Parleremo del mare dal punto di vista dell'ambiente, dell'ecologia, del turismo sostenibile, dello sport, dell'accessibilità alle spiagge, della formazione del personale che lavora nelle spiagge con bandiera lilla. Cominceremo al teatro sociale dalle 10 a mezzogiorno con una conferenza a seguire, racconta Claudio Pompei, consigliere comunale alle politiche giovanili e sport. Dalle 14 nella zona del depuratore davanti alla Baia del Borgo ci sarà la gara nuota a Camogli. Al termine si potranno fare prove gratuite di canoa e vela. Ci sarà poi un'esibizione di cani da salvamento e una visita gratuita alla barca dell'associazione Noi Andiamo. Grazie a tutti. Grazie a tutti.